Penne sta vivendo un po' ancora quella che è l'ondata della pandemia, le scuole hanno avuto questo stop, come è la situazione anche in vista delle festività? Abbiamo purtroppo un dato allarmante che c'è la diffusione del virus tra i giovani, quindi questo mi ha spinto a chiudere le scuole in presenza e i centri sportivi relative alle attività non agonistiche. Diamo una prima risposta in attesa dei provvedimenti del governo, dobbiamo trascorrere un Natale tranquillo, sereno, dobbiamo avere in mano la consapevolezza e la sicurezza di combattere questo virus. Quindi invito i cittadini anche ad utilizzare ogni strumento utile, come ad esempio un tampone, prima di sedersi a tavola a Natale per combattere la diffusione del Covid sul territorio. Sono preoccupato, il rischio è concreto, spetta a noi cittadini ad operarci affinché questo spettro sia allontanato. Io sono convinto che l'esperienza del passato ci possa aiutare e sono anche convinto che i cittadini abbiano capito la lezione qui. Sindaco Starinieri, situazione Covid nel comune di Loretta Brutino, anche alla luce poi di quello che sono i problemi anche all'interno delle scuole? Beh ecco, dopo i 632 casi della giornata di ieri in Abruzzo sicuramente ci sono più casi anche a Loretto, quindi purtroppo i casi stanno aumentando e saranno sempre più. Abbiamo i primi tamponi positivi a scuola anche se oggi è l'ultimo giorno perché prima c'erano solo gli antigenici quindi sono state chiuse solamente delle classi. Adesso con le vacanze speriamo che poi con il comportamento adeguato che invito a tutti i cittadini, alle famiglie per come comportarsi con i genoni, con i veglioni e comunque ad incontrare gli altri, ecco sulla vita sociale, di fare qualche sacrificio per il massimo contenimento. Quindi di usare la mascherina, di evitare gli assembramenti e soprattutto per chi già può farlo di fare la terza dose. Ma soprattutto a chi ancora non crede il vaccino di cambiare idea perché anche per mia conoscenza chi sta andando in ospedale e chi non è vaccinato. Io invito pure i genitori a farlo per i bambini dai 5 agli 11 anni. Certo gli auguri di buone feste, Natale, Capodanno, Epifania e di usare il buon senso. Ecco possono essere DPCM, circolari, raccomandazioni governative ma chiedo ad ognuno di usare il buon senso quindi di comportarsi come meglio crede per evitare il contagio.